Crocifiggilo, crocifiggilo, disse loro a Pilato, prendetelo voi e crocifiggilo, io non trovo in lui nessuna cosa. E così come abbiamo annunciato, desideriamo adesso rivolgere una preghiera per tutti i nostri defunti, per tutti coloro che sono morti anche a causa del Conad, ma soprattutto per coloro che nella solitudine ci hanno lasciato.